Presidente, non è la prima volta che viene a Fano, cos'è che l'attrae nella nostra città? Non è la prima volta, ho sempre avuto anche da sindaco un rapporto con il sindaco Seri e comunque a parte la bellezza e la cultura, oggi parliamo di cultura, noi siamo stati capitale della cultura nel 2020 in un periodo sicuramente meno fortunato di questo, però insomma abbiamo seguito la cavalcata di Pesaro e quindi anche ovviamente la città di Fano all'interno di questo fantastico mondo della cultura e quindi essere qua con l'assessore mi fa sempre piacere. Lei è presidente di più Europa, parlare di Europa in questo momento è parlare di tante cose sia in positivo ma anche un po' in negativo, credo che la domanda sull'agricoltura sia pragmatica, come si relaziona appunto la sua forza politica nei confronti della protesta degli agricoltori che anche nel nostro territorio insomma si vatta a sentire? Innanzitutto le proteste vanno ascoltate perché sarebbe stupido fare muro, com'è stupido fomentare, quindi gli agricoltori hanno sicuramente una parte di ragione dal punto di vista del quanto poco gli vengono pagati i prodotti. Io quello che mi sentirei di dire rispetto anche alla quantità di aiuti che arrivano dall'Europa, quindi io penso che sia stato sbagliato farsi fomentare nel pensare che il problema sia l'Europa quanto siccome il problema è il modello distributivo. Questo è un piccolo esempio per dire che l'Europa in realtà dà un sostegno, non può risolvere tutti i problemi del modello, noi dobbiamo lavorare come nazione, come partito a cambiare questo modello per far capire agli agricoltori che il nemico non è l'Europa ma è lavorare su politiche economiche che siano vantaggiose per tutti. Le guerre che in questo momento ci sono nel mondo non sono molto molto lontane da noi e ci coinvolgono in un certo momento anche per quanto riguarda l'economia, per quanto riguarda le difficoltà. Ebbene più Europa cosa può fare a livello nazionale per cercare di affrontare questo problema? Ma noi quello che stiamo cercando di fare su tanti settori è il tema delle liberalizzazioni che ovviamente va declinato, pensiamo ai tassisti ma anche altri settori in cui il servizio al cittadino, questo può valere per l'energia, può valere come è successo in questi anni con le autorità di regolazione, la possibilità di andare a mercato e quindi avere a parità di servizio perché quello che lo Stato deve garantire è la regolazione del servizio a beneficio del cittadino per avere lo stesso servizio o possibilmente migliore a un prezzo più basso. Con il nostro nome inseguiamo quello e cerchiamo anche di raccontare quello che è un modello europeo che sicuramente va migliorato, abbiamo lanciato un manifesto Stati Uniti d'Europa per dire che alcune delle disparità, pensiamo ai paradisi fiscali all'interno dell'Europa pensando all'Olanda, io penso che sia sbagliato che ci possano essere delle zone che fiscalmente sono diverse e quindi gente, imprese italiane anche pesanti vanno in Olanda perché ci deve essere una parità per poter gestire le proprie risorse e tenerle nel proprio paese, ma al tempo stesso che serva quindi un'Europa federale che possa regolare meglio questo tipo di disparità.